Mario Liverio è tornato nella Locride. Il governatore della Calabria è stato ospite di un'iniziativa pubblica a Riace promossa dalla Recosol, a margine della quale ha ribadito l'impegno della regione a sostegno delle politiche di accoglienza nel paese guidato dal sindaco Mimmo Lucano. Riace è una realtà importante, è un modello di accoglienza che deve essere sostenuto e noi lo sosteniamo perché siamo convinti che appunto Riace può e deve essere assunto come modello dall'intero paese perché è un paese che ha approdo di immigrazione dove centinaia di migliaia di persone spinte da una condizione di sofferenza approdano deve porsi con serietà e senza demagogie e alimentazione di paure deve porsi il problema di come accogliere. Il presidente della giunta regionale si è poi recato a Caulonia per manifestare personalmente solidarietà e vicinanza al primo cittadino Caterina Belcastro, destinataria dei giorni scorsi di una lettera minatoria. Ilario Balini per la CINUS24